si rappresenta uno dei fiori all'occhiello del programma spaziale sovietico russo dopo la messa in orbita del primo satellite sembra si chiamasse sputnik che portò in giro per gli altri celesti un astronauta yuri gagarin che cos'è la mira da mir è una stazione orbitale lanciata a moduli nello spazio lanciata moduli poi l'hanno messo assieme l'hanno assemblata gli uomini che hanno che l'hanno raggiunta ebbene è stato il primo avamposto di vita almeno la nostra in mezzo allo spazio di lì è stato possibile per molti anni e fare degli studi fare degli studi specialmente negli uomini nella vivibilità dello spazio sono stati sperimentati tantissime cose da un punto di vista anche medico ebbene però gagarin prima con la laica una cagnetta che andò sullo spazio fiura petra miliare della conquista dell'ignoto